we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi seconda sfida nuova di oggi della modalità fai centro in centro ci chiede di trovare le lettere on fire per sbloccare uno stile dello skateboard e allora ragazzi come vedete sono praticamente sceso dalla prima rampa a inizio partita e qui sulla sinistra dove c'è il campo da basket c'è la prima lettera ragazzi la lettera o la prima è andata proseguiamo non è facile farle tutte in un colpo solo ma spero che riusciate a capire dovete andare molto molto piano perché bisogna entrare ragazzi qua dove ci sono queste scale per andare a recuperare la seconda lettera che ci interessa eccola qua la lettera numero n la lettera e numero lettera n cerchiamo di uscire se riusciamo con le granate impulso vediamo se riusciamo a uscire con l'impulso ti prego buttami fuori non è facile vediamo se riusciamo ad uscire queste andrebbero fatti in modalità replay un momento è un momento dai perché devono scivolarmi le scarpe ma chi è che mi tira le cose ok o riusciamo ad uscire nice andiamo avanti ragazzi perché la lettera numero 3 che ci interessa è proprio qua di fianco ai camion del cibo eccola qua la lettera f la andiamo a recuperare molto bene adesso cominciano a diventare difficili una si trova se non ricordo male qua sulla sinistra esatto dove c'è questo ponte ragazzi dovete oltre passare il tombino quello che vi ho fatto vedere nel video precedente è per sbloccare la sfida di john c johns nascosto ecco qua la lettera i on fi ne mancano due la prima si trova qua ragazzi la lettera r dovete rallentare state sempre con il tasto per andare indietro in modo che state più rallentati eccola qua la lettera numero 5 che sarebbe la r e per l'ultima invece dobbiamo scendere qua e stare anche qua abbastanza attenti perché eccola lì l'avete vista di fianco alla macchina rossa ragazzi c'è la lettera e che è una aspetta vabbè quella lì è la lettera e comunque ragazzi l'avete vista non appena uscite e quindi completerete la sfida e porterete a casa la vostra ricompensa io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 ciao